Benvenuto ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso YouTube. Dai nostri studi in via Cavurtrea Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi del settimanale L'Amico del Popolo. Ma come sempre, prima di iniziare, leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata odierna, ovvero sabato 30 maggio 2020. Tutto quello che hai sempre è il momento presente, anche adesso. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi del settimanale L'Amico del Popolo. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Ecco come si apre quest'ultima edizione del settimanale bellunese. Titolo principale, Mondiali di Cortina ha chiesto in rinvio. Spostarli al 2022 li metterebbe in sicurezza rispetto al prolungarsi della pandemia. La risposta alla proposta, formulata da parte italiana, arriverà il primo di luglio. La foto di copertina invece è dedicata ai sentieri bloccati. Tenere alta l'attenzione, sentieri compromessi possono far perdere l'orientamento, ma è meglio non mettersi in difficoltà cercando percorsi alternativi. Un richiamo anche per quanto riguarda il coronavirus. Il virus arretra, ma si resta cauti. Il bilancio a dieci giorni dalle riaperture. Anche in provincia controlli serrati anti-movida. Post lockdown, serenità e ordine alle celebrazioni. Belluno feltre verso la Pentecoste, questo per quanto riguarda le riprese delle messe ancora. Turismo montano, una grande sfida, superare l'individualismo degli operatori. Altri richiami della prima pagina. Scuola per le linee guida ci sia la provincia. Chiesa locale, un pellegrinaggio che non si interrompe. Solidarietà, 5.000 cuori per chi soffre. Arte, compie 500 anni, il primo tiziano. Adentriamoci quindi all'interno dell'Amico del Popolo. Troviamo come sempre a pagina 2 la rubrica In provincia e nel mondo. Pareri favorevoli a Cortina d'Ampezzo. A rinvio al 2022 dei Mondiali di Scialpino. Dal sindaco alla presidente degli albergatori. A quello degli impiantisti al campione. Quindi tanti commenti lo avete sentito. E tutti favorevoli allo spostamento. Emergenza coronavirus. Letalità nelle case di riposo, 22%. Fuori, 3,5%. Il dramma degli anziani in provincia di Belluno. Moltissimi morti in casa di riposo. Nel complesso il rapporto tra il numero dei deceduti e il numero dei positivi al tampone è al 9% in provincia di Belluno. Vediamo qui una tabella elaborata dall'Amico del Popolo sui dati della Regione Veneto, Assessore Giampaolo Bottacin. Vediamo appunto le percentuali e i dati suddivisi per case di riposo e deceduti. Un approfondimento che vi invitiamo a leggere. Un'altra tabella, un altro grafico, scusate, dell'Amico del Popolo. Veneto, la somma dei positivi in diversi colori. Tra lunedì 23 e lunedì, scusate, il 2 marzo e il 25 maggio. Vedete appunto come sono calate le colonne delle diverse colorazioni suddivise appunto tra guariti, morti, attualmente positivi, isolati, attualmente ricoverati, attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Quelli precedenti erano in terapia intensiva. Quindi un'altra tabella, un altro grafico da analizzare assieme leggendo l'Amico del Popolo. Ma sempre in merito all'emergenza coronavirus. Se abbassiamo la guardia, a giugno risaliranno i contagi. Le tre misure preventive restano le stesse. Mascherina fuori casa, igiene delle mani, distanziamento sociale. Il dottor Rodolfo Muzzolon durante una diretta Facebook ha pochi giorni dalle riaperture. L'articolo affirma di Martina Rolon. Nessuno è immune, mi rivolgo soprattutto ai più giovani. Il virus non colpisce solo anziani e malati. E ancora un'altra riflessione, un altro appello del primario bellunese. Durante la fase di incubazione, una persona è contagiosa anche se non presenta sintomi. Pagina 6. Imprese cari del fatturato di oltre l'11% per aiutare il sistema economico. La Camera di Commercio ha previsto diverse misure. Tutto questo da un'indagine di Union Camere nel primo trimestre del 2020. Dolomiti Bus, persi con il lockdown 1,5 milioni di euro. La settimana scorsa si è tenuto in provincia al tavolo sul trasporto pubblico locale. Tutti d'accordo di scrivere al governo per chiedere un sostegno finanziario. Come migliorare e potenziare la sanità dopo la pandemia? Riflessioni sul futuro del professor Gian Candido De Martín alla luce delle criticità emerse nella fase emergenziale del Covid-19 e puntare a un servizio veramente universale nel quadro di un funzionamento basato su standard oggettivi. Chiesa locale, pellegrinaggio a Padova, un pellegrinaggio che non si interrompe, ripartono da Belluno, Feltre e Pullman nella tredicina di Sant'Antonio. Dalla solidarietà dai bambini 5.000 cuori per chi soffre e ricavato dell'iniziativa destinato alle famiglie in difficoltà della provincia, un successo all'iniziativa dei gruppi colibri di Insieme Si Può. Dalla provincia, Ulza Dolomiti e Cucchini Avanti Insieme, rinnovata la Convenzione per l'erogazione delle cure pagliative. Dalla vita missionaria, pagina 14, vale la pena di essere cristiani e missionari. Suor Maria Angela Dincaro, originaria di Belluno, ci scrive della sua esperienza missionaria. Dentro mi sento ancora giovane, capace di sognare e di desiderare il meglio per la Chiesa per tutto il mondo. Pagina 16, Belluno. Entro quest'anno 15 assunzioni, vigili, impiegati e conservatori dei musei cittadini. Per dieci posti è già stato bandito il concorso, tra cui quello per il Fulcis. Ancora dal capoluogo, Nevegare, il futuro ancora tra luce e d'ombre. Nei giorni scorsi il consigliere dell'Unione Montana, delegato, ha rilasciato le dimissioni. Nevegallica, Colle Abbandonato, Vendramini, Pian Longhi, grande opportunità, pubblicato il bando per la gestione. Dalla Valbelluna sedi, Colente Parco, cerca un gestore per l'area Picnic di Candate nella consegna incondizionata dall'emergenza Covid-19. E ancora, grazie a Corri con la Luna, 3.500 euro all'USL, il ricavato dell'edizione 2019 quest'anno causa Covid. L'evento non si svolgerà. Ponte nelle Alpi, l'approvazione del consuntivo risorse per emergenza Covid e opere sul territorio. La scorsa settimana, durante la seduta del Consiglio Comunale, siamo a pagina 19 dell'Amico del Popolo. Ancora da Ponte nelle Alpi, 10.000 euro per le famiglie in difficoltà, metà della cifra è frutto di donazioni, l'altra metà arriva dal gruppo Alpini. Valbelluna, piadine nell'RSA per dire grazie da parte di alcuni volontari di Villa di Villa, a Borgo Valbelluna, agli operatori delle case di riposo di Lentia, in Melle, e Tricchiana, e, appunto, e Tricchiana, scusate. Siamo a Feltre, maratona di lettura online da record per le disposizioni anti-Covid. La manifestazione non ha potuto svolgersi in precedenza. La quindicesima edizione ha registrato un bilancio più che positivo. Parco della Rimembranza, rimaniamo a Feltre, gli Alpini a disposizione per i lavori di recupero, l'ana fiduciosa di essere presto ascoltata dall'amministrazione. Santa Giustina, ex latteria di Ignane, piscina sotto la lente, ha fatto molto discutere la destinazione di altri fondi a queste due strutture, tutto questo in occasione del Consiglio Comunale di Santa Giustina. Dal Feltrino ancora, l'associazione vola per l'ospedale di Feltre, nel giro di alcune settimane è stata raccolta la ragguardevole cifra di 138.000 euro, complementi davvero a questa associazione della provincia di Belluno. Siamo adesso in Cadore, valorizzare le strade, le acque, il piano assetto, territorio, l'esame del Consiglio Provinciale, il Comune pensa al Piave, al Boite, ma anche alla Cavallera. Cortina adotta un sentiero al lavoro, ad ogni volontario viene affidato un sentiero, l'impegno non è gravoso, il sentiero va percorso almeno una volta all'anno, si fanno piccole manutenzioni, vediamo alcuni scatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Piave di Cadore, elicottero a Belluno, il tempo dei lavori, con i carabinieri trovata una soluzione per il trasferimento provvisorio, la nuova base sarà realizzata vicino all'attuale, a sbalzo verso la strada. Santo Stefano, 3 milioni per il territorio, 1 milione e 300 mila euro per la strada del Cianà, sono i soldi dello Stato per il dopovaia, il finanziamento è a rimborso. Agordo, le associazioni unite per l'ospedale hanno avviato una raccolta di fondi per l'acquisto di attrezzature, grazie fin d'ora a tutti coloro che vorranno aiutarci per questa raccolta. Ancora da Agordo, 40 mila tamponi Luxottica al mese, grazie alla collaborazione dell'azienda con il professor Andrea Crisanti, vediamo in questa fotografia il presidente di Luxottica del Vecchio con l'amministratore delegato Francesco Milleri. A proposito del settore dell'occhialeria Taibon, ripartiamo del D nel messaggio di Sprone, un'altra importante azienda presente nel territorio a Gordino. Ma rimaniamo nella Gordino, agricoltura e montagna bisogna saper reinventarsi, rischiare ed essere flessibili. La storia dell'azienda agricola di Liliana De Nato, in località Le Feste, e per chi si sta guardando da Facebook e YouTube alcuni scatti di questa azienda in un posto meraviglioso com'è il comune di Gosaldo e un primo piano della titolare. Stiamo parlando di Liliana De Nato. Longarone, opere pubbliche, piano corposo tra illuminazione pubblica, asfaltature e riqualificazione in pianti sportivi annunciato in consiglio è possibile grazie al fondo di bilancio. Piscine e palasport hanno riaperto, notizia che riguarda il territorio sempre di Longarone e ancora Longarone, Diga del Vaiont si pensa a come riaprire e il Covid-19 ha stoppato le visite ai luoghi della memoria della tragedia. Val di Zoldo, visiera della Silcon, anche in casa di riposo i prodotti prevettati per far fronte all'epidemia di coronavirus. Alpago, siamo a pagina 35 dell'Amico del Popolo. Opere per oltre 800 mila euro. Nell'ultimo consiglio è stata approvata una corposa variazione di bilancio. Le tre principali riguardano smottamenti di coazze, pianture e somma costa. Ancora dall'Alpago riparte il trasporto pubblico, si è pensato soprattutto alle esigenze dei lavoratori. Passiamo adesso alla rubrica in famiglia, pagina 38, punto primo impegnarsi nella scuola. Da ogni parte proposta è necessaria a migliorare la nostra organizzazione. Il consueto appuntamento con l'articolo a firma di Don Gigetto De Vortoli. E ancora dalla rubrica in famiglia, snodi in quota, un aiuto alle persone rimaste ai limiti del mercato del lavoro coinvolgerà i 46 comuni del territorio dell'ex USL numero uno, Belluno. Passiamo alla cultura, pagina 41, compie 500 anni il primo tiziano e del 1520 la Palagozzi, ancora oggetto di studio per i significati politici. A Casamazzagno, l'incontro degli artisti con la storia di San Leonardo per la chiesa erano state predisposte fin dal 1860 alle cornici per gli affreschi sulle pareti a destra e sinistra dell'altare. Testi e documenti raccolti dal vescovo Luigi Bressan sorpresi dall'annunciazione con i musulmani tra le immagini la pianeta di Rasai ora al Museo De Cesano d'Arte Sacra. E sempre da Feltre, festa solo mediatica per i santi martiri Vittore Corona, nemmeno in tempo di guerra era venuto o meno l'afflusso dei fedeli. Ecco quindi, volgere al termine, purtroppo un'altra notizia invece, una tragedia avvenuta nella Gordino, Ceciniega Gordino aveva 63 anni e morto Tano Manfroi, era scomparso sabato, ritrovato martedì in un dirupo. E' stato ritrovato in un dirupo il corpo di Carlo Tano Manfroi, 63 anni, uscito nella mattinata di sabato 23 maggio per una passeggiata insieme al suo cane lungo il versante del Monte Pelsa in direzione Bricole. Purtroppo una tragedia lo ha strappato alla sua famiglia. Con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno, un'edizione dedicata come di consueto quella del sabato al settimanale e l'amico del popolo. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina a Luna, oro locale italiana. A voi tutti, un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Belonesi nel mondo.